Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi classifichiamo i movimenti dei carri del carnevale di Sciacca 2024. Partiamo subito. Partiamo dalle false verità. Comunque prima di iniziare ci tenevo a dire che praticamente ho preso dei video da varie storie in Instagram nei profili ufficiali del carnevale di Sciacca e tramite le registrazioni, io li ho registrati, andremo ad analizzare ogni movimento. Oddio, non tutti i movimenti proprio perché comunque ne mancherebbe qualcuno tra i movimenti e li classificherò. Partiamo con il movimento di false verità. Ok, eccoci qua. Il movimento, devo dire che è molto bello, tra l'altro il carro, visto mi pare si girasse a 180 gradi, credo, non mi ricordo bene. Comunque è un bel movimento, ragazzi, tutti i burattini che si muovono, tutto quanto, è fatto molto bene. Il carro in movimento è ancora più bello, anche l'illuminazione riflette bene, rimettiamo ancora il movimento, quindi riflette bene, tutto il carro viene inciso tramite i movimenti. Insomma, è un bellissimo carro visto in movimento. E credo che tra tutti lo metterei secondo, dai, secondo perché se lo merita. Ora Ok, questo Rimettiamo ancora il video. E dicevo, è un movimento, è molto bello. Devo dire che i movimenti comunque sono avanzati rispetto a un carro base per i suoi movimenti, perché comunque, ad esempio, alcuni movimenti sono innovativi in questo carro. Ad esempio, ad esempio, insomma, un bel po', poi queste sei braccia che si muovono, gli occhi che guardano da sinistra a destra, insomma, è un movimento innovativo, non c'è mai stato. Quindi, anche questo io mi sentirei di metterlo secondo a pari merito con le false verità. Adesso analizziamo il movimento del carro regorico, l'apparenza inganna. Il carro Per classificare questi movimenti, non ve lo faccio rivedere perché praticamente dura 4 secondi, sto video, è davvero stato difficile, quindi l'ho dovuto vedere dal vivo. Allora, il pub principale con lo specchio si gira a 180 gradi, gli asini si muovono bene, comunque è un bel carro in movimento, però onestamente, questa ve la vedo raccontare, Quando ho visto l'apparenza inganna, proprio quando sono arrivata alla festa, ho detto, perché ieri è stata la prima serata, mi sembrava come se l'apparenza inganna, il carro fosse proprio stato cambiato. Come se nella notte qualcuno avesse cambiato l'atmosfera del carro e non me l'ha fatta piacere più. Infatti, non è che mi sia piaciuto così tanto, anche i movimenti con la bruttezza che mi stava dando quel carro, mi dispiace dirlo. I movimenti non me li faceva godere bene, è per questo che, mi dispiace per l'apparenza inganna, ma so che è un movimento particolare, ma si becca al quarto posto. Non so perché, l'atmosfera è come se fosse stata rubata dal nulla, da qualcuno, da qualcosa, non lo so, proprio l'atmosfera del carro, compresi i movimenti, onestamente non mi sono piaciuti, quindi quarto posto. Ora analizzeremo i movimenti del carro allegorico, la resa di Conti. Allora, i movimenti comunque non sono cambiati per niente, sia durante la festa, anzi, i movimenti sono stati mostrati fin dall'inizio, e devo dire che il movimento dei pupi, quelli là sotto che sarebbero i cavalieri, è innovativo, perché non credo ci sia stato mai un movimento così preciso. E mi fa piacere molto questo carro allegorico, così, anche perché lo rende anche più bello movimentato, anche la donna, i cannoni che si muovono, è tutto bello movimentato questo carro, anche se è un pochino piccolino, è movimentato. E ci devono dire che i cavalieri, più che pupi, sembrano robot, ma ovviamente in senso positivo. Quindi per me, ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare, un po' come Vecchia Cinema in Paradiso e False Verità incide bene sul carro, non è all'altezza degli altri movimenti. Però è un bellissimo movimento, dai, un terzo posto. Ora, ecco che ne vada la pena. Anche i movimenti che ne vada la pena, non so perché il video mi duri così poco, però comunque i movimenti si vedono bene, dopo tutto, visti dal vivo sono ancora meglio. Ad esempio, il carro si muove, magari qualche pezzo non si muove, ad esempio alcuni pezzi non si muovono, tipo i cactus, un leggero movimento io glielo avrei fatto fare, oppure anche alla tavola. Ok, so che comunque è un'associazione sordienta di quest'anno, però tra le monete del tavolino dove stanno il sindaco, il presidente del consiglio siciliano, tra gli aggeggi, tra i cartelli, le cose, qualcosa la potevi far muovere. Comunque è un movimento che secondo me è ok, ci sta, però dai, diamo un quarto posto ex equo con l'apparenza inganna. Non è brutto come movimento, ma è proprio il carro basso a livello di movimenti, anche se è alto pure questo. Quindi, quarto posto. Per finire, i movimenti del carro allegorico Make Voice, realizzato dall'associazione culturale Aurora08. Allora, il video dei movimenti di Make Voice dura pochissimo, e come potete vedere, perché è l'unico video che sono riuscito a trarre tra tutti, non so perché, ma proprio tra tutti i video che circolavano sul web, non ho trovato un video che ritraesse al 100% il movimento di Make Voice. E ora vi spiego il perché. Intanto stoppiamo il video perché comunque non avrebbe senso. Poi, purtroppo, i risultati non sono riuscito bene ad avvicinarmi al carro, quindi non... Purtroppo non posso decretare bene i movimenti. Però ho visto, ho visto, ho visto tanto di quel carro, e ho visto che gira il batterista, oltre a fare il movimento principale da fermo, si gira a 360 gradi, così come Loredana Bertè, che si gira. Poi, quando è ferma, il movimento base si alza in piedi, si siede, invece il movimento, proprio, il movimento, ha tutto movimento, insomma, il carro tutto si gira a 360 gradi, un movimento incredibile, tutte le bacchette, tutti i dettagli, il simbolo di The Voice, i pupi sotto, dietro pure che c'è un'imparcatura che originalmente sembrava dovrebbero puntare altri pupi, invece non hanno montato niente, scusate, montato niente, ma invece si è visto tutto, poi un telo, qualcosa di spettacolare, meraviglioso, ragazzi, un movimentone incredibile, da il batterista che suona, da che si gira a 360 gradi, a Loredana Bertè che si gira pure, che attacca lo stop, che si alza, insomma, si è capito che questo carro a me è piaciuto veramente un sacco il movimento, e con le luci, ragazzi, è la fine del mondo, primo posto meritatissimo. Questa era la mia classifica sui movimenti del carnevale di Sciacca, non sarà ora l'unico video di scia, infatti ora credo che ne registrerò un altro, ovvero quello di costumi, che sarà molto probabilmente, la penultima voce, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!